Allora, l'ho annunciata poco fa, io voglio ringraziare per la sua disponibilità Rossana Bossu in collegamento con noi. Ciao Rossana, buongiorno. Ciao Francesco, buongiorno. Grazie a te e a voi per l'invito. Allora, è un piacere enorme perché intanto, insomma la premessa è quella che facevo poco fa, prima del brano musicale. Perché un anno fa, praticamente, al Salone del Libro, una delle interviste che abbiamo realizzato all'interno di almeno due pagine al giorno, l'abbiamo realizzata proprio con te, perché il libro di cui parliamo stamattina, ovvero Il Soffio della Balena, uscito per Camelo Zampa, stava per uscire. In realtà poi è uscito, diciamo, a settembre, noi lì eravamo a maggio, però avevamo parlato dei contenuti di questo libro e anche di un viaggio che tu avevi realizzato, che se hai voglia anche di raccontarci anche stamattina, noi siamo davvero molto contenti, che però di strada o di leghe nautiche, non so come si dica, insomma, di mare, ne ha percorso tantissimo in questo anno perché qualche giorno fa a Tolentino il libro ha ricevuto un premio molto prestigioso, di cui parleremo tra poco, di Lega Ambiente. Intanto avremo la possibilità tra poco anche di condividere con i nostri spettatori, soprattutto con i nostri spettatori, per chi ci segue sul canale 87 del Digitale Terrestre, nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure sul sito rbe.it, alcune immagini del libro. Ma intanto partiamo dall'inizio perché, insomma, un anno fa ne parlavamo. Questo libro, Il soffio della balena, da quale idea parte, insomma, Rossana? Parte da lontano perché sono anch'io andata a ritroso per cercare di capire quando sono stata presa da questa passione per le balene e sono risalita a più di dieci anni fa. Non so esattamente perché sia stata colta da questa passione che è diventata quasi un'ossessione, però ho raccolto un sacco di informazioni, mi sono letta un sacco di libri, romanzi con protagonisti le balene, saggi scientifici e da lì poi, avendo tutte queste informazioni, ho pensato che dovevo farne qualcosa, dovevo far uscire tutta questa passione, questo coinvolgimento con i cetacei. E da lì poi ho proposto, insomma, il libro al mio editore, a Camelo Zampa, che in realtà l'avevo già proposto tempo fa, però non riuscendo a trovare una chiave narrativa, abbiamo poi deciso di farlo diventare un libro divulgativo, quindi un no fiction, che parla ovviamente dei cetacei dal punto di vista scientifico, biologico, però racconta anche tutta una serie di storie, proprio più da un punto di vista filosofico, mitologico, che coinvolgono le balene, perché insomma, fin dalla notte dei tempi, insomma, siamo affascinati da questi grandi mammiferi. Allora, Rossana, noi intanto lo vediamo, i nostri spettatori anche lo vedano il libro, perché in basso a sinistra, dietro di te, c'è la copertina del libro, però intanto, mentre aggiungo qualche elemento a questo libro, per chi ci guarda anche in video, è possibile vedere una serie di immagini, di pagine, diciamo, del libro di Rossana Bossu, un libro che si intitola Il Soffio della Balena, che è pubblicato da Camelo Zampa, è uscito il 15 settembre 2023, ed è dedicato, leggo, al mondo affascinante dei cetacei, è esplorato con originalità e ricchezza di informazioni scientifiche, attraverso evocative illustrazioni. Tu, in realtà, ce lo raccontavi anche un anno fa, hai, come dire, hai fatto un viaggio, in realtà, sperando, in realtà, di incrociare, diciamo, le balene. Dove sei stata, in realtà, nel tuo viaggio, credo, più di un anno fa, se non sbaglio, no? Sì, sì, è stato tre anni fa, ovviamente, in occasione dei miei 50 anni, ovviamente, mi sono regalata questa avventura. Sì, sono stata come volontaria una settimana in barca a vela, nei mari di Ischia, intorno a Ischia, proprio per, allora, che dire, ascoltare i suoni emessi dai cetacei presenti nel Mediterraneo, che sono il Capodoglio, le Stenelle, ci sono i Tursiopi, i Delfini Tursiopi, ci sono anche le Balenottere Comuni, che però sono molto difficili da vedere. Devo dire che volevo, volevo tanto vedere i Capodogli, ma abbiamo solo sentito qualche suono, qualche click emesso dai Capodogli, però, l'ultimo giorno, appunto, siamo riusciti a vedere un gruppo, un pod di Delfini Tursiopi, che sono quelli un po' più semplici da vedere, perché normalmente stanno sotto costa, ed era un gruppo ben nutrito, adesso non ricordo esattamente il numero, però erano, erano veramente tanti, e c'erano le, le femmine con i piccoli, ed è stato, ed è stato veramente emozionante, c'è il pensare che comunque ci sono questi, questi grandi mammiferi, di cui ancora non conosciamo, ci sono ancora misteriosi, riusciamo a non conoscerli ancora del tutto, e che riescono comunque a, come dire, a fare questa vita nonostante comunque la nostra presenza, perché ovviamente i cetaci, nonostante adesso siano per lo più in quasi tutti i paesi, voglio dire, siano specie protette, non del tutto, perché comunque ci sono ancora dei paesi che praticano la caccia, sono comunque in pericolo per tutta una serie di motivazioni che spesso vengono dalle attività umane, quindi possono scontrarsi con le barche, con le navi, possono rimanere aggrovegliati nelle attrezzature da pesca, possono anche spiaggiarsi perché vengono disturbati dai suoni che mettiamo in mare, che vengono proprio a disturbare il loro modo di comunicare, e quindi insomma, voglio dire, continuano a essere in pericolo, nonostante appunto, mentre da quando è stata vietata la caccia, alcune specie si sono, diciamo, un po' riprese da non essere proprio sul loro dell'istinzione. E tra l'altro, insomma, però in qualche paese ha anche ripreso la caccia alla balena, quindi evidentemente non si impara mai niente, diciamo, e questo è un dato di fatto purtroppo. Illustrazioni raffinate che coniugano la poesia al rigore scientifico, che permettono attraverso la lettura di questo libro di scendere nelle profondità marine e che viene a conoscere quegli esseri straordinari che sono i cetacei. Questo è anche un altro di quei passaggi, diciamo, all'interno del libro, di cui ripropongo ancora alcune immagini che hanno, come dire, probabilmente colpito, e qui veniamo, diciamo, anche al premio che ti è stato conferito, diciamo, che hanno particolarmente colpito anche la giuria, perché al di là della bellissima, chi ci guarda adesso vedrà anche, sta vedendo anche, diciamo, l'idea, diciamo, molto molto bella, diciamo, dal punto di vista grafico, di inserire le immagini insieme ai testi, diciamo, ha colpito molto l'Egambiente, perché leggo la motivazione del premio nazionale è un libro per l'ambiente 2023-2024. Il libro è stato scelto per miglior, intanto, miglior libro per coerenza grafica testo, scelto per l'intreccio originale delle immagini dei testi che avvolgono in una profonda immersione nel mondo dei mammiferi marini. Il libro apre spazi integrati nei quali il rigore scientifico è espresso nella variabilità dei linguaggi, generando emozioni e senso di responsabilità. Vorrei solo aggiungere, Rosanna, che non è la prima volta, in realtà, che tu lavori all'insieme, diciamo, affinché l'immagine e il testo siano integrati e abbiano, come dire, una loro coerenza, una loro armonia interna. Lo avevi fatto, se non sbaglio, anche con un libro sugli alberi, sulle meduse. Insomma, evidentemente questo è una tua cifra specifica, no? Sì, sì, ma anche perché io, cioè, prima di dedicarmi all'illustrazione, l'illustrazione degli albi illustrati per bambini, non solo, io nasco come grafico editoriale pubblicitario, quindi ho lavorato per circa una ventina d'anni collaborando con le agenzie pubblicitarie, quindi, come dire, ho questa competenza grafica che ovviamente mi aiuta quando, appunto, devo produrre questi libri. E in questo caso, ad esempio, del Soffio della Balena, avevo ancora la difficoltà in più che il testo era molto, c'era proprio questo tanto, tanto testo, perché le informazioni erano tante non si è riusciti a ridurle più di tanto e quindi ho dovuto, in qualche modo, far diventare il testo parte dell'illustrazione, in modo che non fosse così, cioè che non diventasse, appunto, pesante, che comunque il testo, voglio dire, fosse magari troppo proponderante. Quindi, alla fine, in alcune pagine, appunto, ho usato il testo proprio per integrarlo alle illustrazioni, in modo che fosse più facilmente usufruibile e anche più piacevole da leggere. Sei stata presente, hai partecipato ovviamente alla cerimonia di premiazione a Tolentino, se non sbaglio, no? Il 29 maggio. E leggo anche che, insomma, è stata una bella sfida, perché a parte il fatto che la giuria nazionale era costituita da circa 700 ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, insieme ad una giuria di esperti, hai dovuto, tra virgolette, ovviamente lo dico in maniera molto dolce, sgomitare insieme ad altri 69 testi, diciamo. Per cui, voglio dire, evidentemente, e noi lo sappiamo, insomma, anche personalmente, diciamo, sono anche un fan, diciamo, da anni del lavoro di Rossana Bossu, evidentemente, insomma, questo lavoro aveva un passo in più. È inutile chiederti, ma io lo faccio lo stesso, perché, insomma, so di quanto possono essere emozionanti questi momenti, insomma, di che tipo è stato l'incontro, insomma, anche la risposta, l'incontro con il pubblico, l'incontro anche con Lega Ambiente, insomma, di questi tempi, come dire, parlare in maniera così autorevole anche attraverso premi letterari di Ambiente, credo che sia un grande impegno e anche una grande soddisfazione, devo dire, Rossana, no? Sì, sì, no, infatti sono stata molto, proprio molto felice di questo premio, perché comunque l'idea di poter arrivare ai ragazzi, i bambini e i ragazzi, attraverso comunque un racconto di storie, attraverso i libri, e in questo caso qua, cioè, far arrivare anche proprio quella che è la meraviglia, no, dell'ambiente che ci circonda, quindi di andare a creare curiosità con i libri, in modo che i ragazzi si pongano delle domande, così in maniera poi di andare a cercare le risposte, e quindi da ampliare la ricerca e l'idea appunto di andare a scoprire tutte queste connessioni che ci legano proprio alla natura, all'ambiente che ci circonda e ricevere questo premio, come dire, mi fa proprio molto felice perché è un'ulteriore connessione, c'è ovviamente una connessione tra quello che è il libro, il racconto, quello che nel libro viene raccontato, i ragazzi, cioè, si ampiano i punti di vista e credo che appunto, insomma, questo tipo di premi non faccia che, insomma, costruire ponti, ecco, su cui ci si può incontrare, scambiare, scambiarsi il cammino, e appunto proprio, come dire, guardare, no? Guardare il panorama che c'è intorno e da lì meravigliarsi e una volta che viene scoperta la meraviglia poi ce ne se ne prende cura e questa è proprio la cosa su cui punto di più quando appunto mi viene data la possibilità di fare questi libri, quindi un grazie comunque all'editore che mi sopporta quando ho queste idee che mi dà fiducia e un punto, un grazie anche a chi poi, come dire, amplifica il libro stesso e fa in modo che venga visto, insomma, il più possibile, che arrivi comunque ai bambini, ai ragazzi. Abbiamo ancora un paio di minuti, ma fammi aggiungere, insomma, che il tuo lavoro in realtà costruisce ponti con la natura, perché, insomma, vorrei ricordare il Giardino delle Meduse, illustrato, scritto da Paola Vitale, che ha vinto il premio Piccolo Galileo Junior, il premio Soli Gatto, il secondo posto al premio Malerba per l'arbo illustrato, il premio Calimera anche, chi sarà sempre scritto da Paola Vitale, finalista al premio Letteratura Ragazzi di Cento, Farfallari, ha scritto da Livia Rocchi, è stato nominato per il Little H International Picture Book Award, per Einaudi hai realizzato le illustrazioni del volume Sogni del fiume di Candra Candiani, per Nebulosa del Gran, che hai realizzato il libro Giardini Filosofici, i luoghi dello spirito, insomma, questi sono solidissimi ponti, diciamo, e di dialogo con la natura. Ovviamente tu non risponderai mai, ma in questa fase stai lavorando a qualcosa in particolare, oppure, insomma, manteniamo un riservo totale, diciamo, sulle prossime pubblicazioni? Ho alcune cose in corso che però non sono ancora ben definite, quindi diciamo che non posso esprimermi di più, ecco, però hanno sempre questo, diciamo, questo fil rouge, questo collegamento con la natura in qualche modo. Vabbè, c'è una garanzia per noi sapere che comunque stai lavorando a qualcosa di nuovo, questo ci piace molto. E allora, siamo in coda a questa conversazione. Rosana, io ti ringrazio moltissimo di, insomma, avere ancora una volta accettato l'invito di dialogare con me all'interno di almeno due pagine al giorno. Spero sia stato un buon tempo anche per te, ancora auguri per il premio Legambiente. Allora, speriamo, insomma, presto di reincrociarci ancora qui. Grazie ancora, Rosana. Grazie, grazie a te.